Primi sviluppi processuali sull'efferrato omicidio di Pierpaolo Panzieri, 27enne pesarese ucciso con 15 coltellate il 20 febbraio scorso nella sua casa di Via Gavelli dal reo confesso Michael Alessandrini. Il trentenne pesarese arrestato in Romania dopo migliaia di chilometri di fuga si trova rinchiuso nel carcere di Villa Fastigi dallo scorso 16 marzo e ora il GIP ha accolto la richiesta di incidente probatorio con perizia psichiatrica. Si tratta di un passaggio fondamentale per accertare condizioni psichiche e capacità di intendere e di volere dell'omicida. Martedì 11 aprile al Tribunale di Pesaro si terrà l'udienza per il conferimento dell'incarico a due periti, uno nominato per parte. Una perizia reputata necessaria in seguito ai contenuti sconclusionati e deliranti espressi da Alessandrini in sede di interrogatori che hanno portato ad accantonare presto la pista del movente passionale. Alessandrini ha più volte ripetuto di aver ucciso rispondendo a un ordine divino di Yahweh etichettando Pierpaolo come un malfattore non mostrando segni di rimorso per l'accaduto ma anzi lasciando paventare che c'erano altre due persone che a suo avviso erano meritevoli di morire.